Non si può continuare a palleggiare il ritardo e i disservizi sul Comune che paga o il piano di zona che non paga. I cittadini, soprattutto le fasce deboli, non possono ascoltare questo balletto e queste responsabilità e quindi per soltrarmi a questo balletto di responsabilità ho dato, mandato e detto agli uffici finanziari del Comune, pagate fino all'ultimo centesimo, rimandate magari altri pagamenti se avete difficoltà ma non rimandate questo pagamento. Quindi per questo motivo il Comune di Castellabate ha onorato tutti gli impegni nei confronti del piano di zona per la cifra modesta di 92.000 euro. Il Comune di Castellabate ha corrisposto al piano sociale di zona tutte le aspettanze dovute, così il primo cittadino costabile Spinelli ritorna sul piano di zona S8 e sottolinea che bisogna avere più oculatezza nel gestire le risorse finanziarie. Tutti i movimenti del piano di zona vengono nella contabilità, vengono iscritti nella contabilità del Comune e allo stesso modo viene utilizzata la tesoreria del Comune, quindi i fondi del piano di zona confluiscono nella tesoreria sia in entrata che in uscita. Quando il Comune magari accumula un ritardo da parte della Regione, chiaramente il Comune si trova costretto ad anticipare e i Comuni oggi non hanno la possibilità di finanziare, di anticipare, anche perché l'ultima finanziaria ha previsto un restringimento della capacità di anticipazione dei Comuni da parte del proprio tesoriere. Quindi mentre si restringono le possibilità di anticipazione, registriamo dall'altra parte un ritardo da parte della Regione, da parte degli enti che poi dovrebbero erogare queste somme che vengono a formare poi il piano di zona. Parere favorevole da parte del Sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, sulla gestione autonoma del piano di zona S8, i problemi forse resteranno gli stessi, sottolinea Spinelli, ma saranno affrontati diversamente perché gestiti non dalla politica. Si supera, secondo me, superando questa attuale gestione, creando un'azienda speciale che ha una propria autonomia gestionale, finanziaria e di cassa, soprattutto con la propria tesoriere. I problemi resteranno forse gli stessi, ma verranno affrontati un poco, diciamo, verranno non gestiti direttamente dalla politica, detto da un Sindaco, verranno non gestiti direttamente dalla politica perché la politica quando vuole entrare nella gestione di determinati procedimenti molte volte è poco attento. Credo che ci voglia un atto di responsabilità. È inutile creare guerre, scontri che non porterebbero, che non giovano a nessuno. In questo momento è molto facile puntare il dito, uscire dal piano di zona e sono pronto anche a farlo, non ho problemi a farlo se ho un'alternativa e se si crea un'alternativa valida a poter garantire questi servizi. Ultima analisi, bisogna passare alle azioni forti e coinvolgere anche la Regione Campania che su questo ha dato anche delle direttive, fra l'altro. E quindi ha dato già delle direttive ad andare in questa direzione, superare l'attuale formazione della Costituzione ex articolo 30. Intanto bisognerà attendere fino al prossimo 26 marzo per capire cosa la Regione Campania deciderà dopo l'incontro con tutti i sindaci afferenti all'ambito S8.